Ciao a tutti, partecipiamo al premio Costruiamo il Futuro, perché? Allora, siamo prima di tutto un gruppo sportivo, siamo di Chiaravalle milanese, una frazione a sud di Milano e siamo in realtà un gruppo di una ventina di ragazzi, se non di più, e ci siamo costituiti nel 2012 questo gruppo è stato ripreso nel 2012 da una volontà di tre ragazzi che hanno appunto voluto ricominciare un progetto calcistico e di oratorio ci iscriviamo appunto al premio Costruiamo il Futuro perché abbiamo bisogno di una mano perché questo gruppo qua è formato da ragazzi come me, Marco e Davide e noi facciamo praticamente tutto, dal taglio del campo alla pulizia degli spogliatoi lui fa l'allenatore della squadra dei più piccoli e quindi abbiamo bisogno assolutamente di aiuto e ci piacerebbe appunto ricevere una mano e diventare un gruppo sportivo vero e proprio e ingrandirci